Come collegare il PIM Homepage alla piattaforma e-commerce StoreAden? Lorenzo, come avviene questo? In Homepage abbiamo sviluppato un connettore per StoreAden, e-commerce che sta crescendo molto negli ultimi anni, e direttamente all'interno di Homepage abbiamo la possibilità di definire quale informazioni vogliamo inviare al nostro sito e quindi poter inviare tutte le informazioni testuali, descrittive, alle traduzioni e a tutti i contenuti multimediali in modo automatico. Bene, operazione fattibile, ma se è necessario possiamo intervenire e aiutarvi in maniera agevole a collegare la piattaforma e-commerce con il PIM Homepage.